Tu mi stai mantendo in bilico per vedere se le cose con lei funzionano. Raffaella non le manda a dire e durante l'esterna con Brando ha un acceso confronto. La corteggiatrice campana è convinta del fatto che il tronista non sia arrivato ad una scelta solo perché incerto su un possibile futuro con Beatrice. Se ti fosse scattato qualcosa avresti già scelto, sottolinea Raffaella rincarando poi la dose in studio e ammettendo che ad oggi nemmeno lei ha motivazione. Di contro, il tronista esce anche con Beatrice e tra i due sembra esserci una rinata complicità tanto che i due fantasticano anche su un ipotetico futuro insieme. Una parentesi molto intesa che sfuma però una volta tornati. Brando si trova a dar conto alle corteggiatrici con Raffaella che innesca la miccia e quando il tronista interrompe il discorso in corso con Beatrice per dare risposta alla campana. La rivale la Brando si trova a dar conto alle corteggiatrici con Raffaella che innesca la miccia e non finisce qui perché Brando si trova brattato dalle corteggiatrici con Beatrice che riprende una frase pronunciata dal tronista nella scorsa puntata dove avrebbe dichiarato di aver raggiunto Ma non finisce qui perché Brando si trova brattato di Raffaella sorride ma al tempo stesso invita Brando a ballare. Nel nasce un confronto quasi comico dove il tronista sembra essere sotto scatto e Beatrice gli dà del senza pa E dopo questo scambio acceso ed un ballo tra Beatrice e un cavaliere del trono over nasce un siparietto comico con Brando, Raffaella e Beatrice seduti nel parterre delle corteggiatrici dove Raffaella E dopo questo scambio acceso ed un ballo tra Beatrice e un cavaliere del trono over nasce un siparietto comico con Brando, Raffaella e Beatrice